e from matriarchi to patriarchy english on the world ok cari amici è apparso è apparso e questo ebook questo ebook dal matriarchi al patriarchy è ora apparso è pubblico è pubblico è apparso nella sua versione in lingua inglese era già da circa due mesi che vi stavo informando che era imminente l'uscita di questo ebook nella sua nuova versione in lingua inglese ora è in tutto il mondo mi pare che l'editore mi ha detto che è venduto in 52 stati compresa l'italia è in 52 53 non ricordo bene 52 53 stati dove è operante la piattaforma itunes della e poll perché quest'opera è prodotta dalla dal grande centro leonardo di di genova che si può dire che la struttura all'avanguardia in italia relativamente alla produzione di ebook interattivi e multimediale per le scuole di ogni ordine e grado e per l'università che qua è un ebook per la scuola e le università ecco cari amici quindi il grande momento è arrivato è arrivato tra qualche giorno e io e i miei collaboratori i collaboratori sono edena ferrara di cui presto vedremo la nuova copertina tommaso minniti che ha scritto una bellissima introduzione in lingua inglese e poi c'è l'altra collaboratrice che la mia nipotina camilla fioravanti che ha fatto una bella traduzione professionale del testo dalla lingua italiana e la lingua inglese tra qualche giorno ci ci cimenteremo con la produzione di video in lingua inglese video che saranno 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 visti in tutto il mondo ok cari amici piano piano le cose giungono alla loro realizzazione presto sparirà questa cartolina e apparirà una nuova cartolina con il frontespizio dell'ebook nella sua versione in lingua inglese nel riassunto di questo video troverete il link che vi porta sul nuovo ebook in lingua inglese do la notizia pubblicamente a tutti gli amici e ai collaboratori che ancora non sanno che questa nuova versione in lingua inglese è già pronta sulla piattaforma itunes della apple grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da serafino massoni grazie a tutti grazie a tutti